Salve a tutti, un saluto da Francesco Samani voglio fare un video rapido relativamente alla situazione scuola anno scolastico 2020-2021 in particolare volevo fare chiarezza sull'ordinanza MIUR del 5, quindi ordinanza, scriviamolo, MIUR del 5-08-2020-83 che è quella che stabilisce chi sono i supplenti Covid essi possono essere assunti con incarichi temporanei dai DS dai dirigenti scolastici supplenti Covid possono essere personale docente e ATA avranno priorità le scuole dell'infanzia perché ricordo tutti che nella scuola dell'infanzia nella scuola materna i bambini non usano le mascherine e essenzialmente tale priorità è gestita al 50% dal numero di studenti che resistono registrati negli archivi del MIUR e da un 50% su base delle richieste dell'ufficio scolastico regionale per quanto riguarda il tipo di contratto è uscita poi il 5 settembre sempre del 2020 la nota ministeriale numero 26.841 che fa chiarezza su che tipo di contratto vanno avere questi supplenti Covid e come vengono chiamati allora si attinge sempre dalle in questo caso dalle gradatorie di istituto il tipo di contratto è tale per cui è temporaneo e in caso di lockdown il contratto si conclude prevede anche una fase di riapertura delle scuole e per continuità il contratto con la scuola verrà riassegnato laddove ci sarà ancora la disponibilità se non ci sarà la disponibilità chiameranno sempre da gradatore di istituto invece per quanto riguarda per fare un pochettino di chiarezza siccome è proprio questa la fase gli incarichi annuali che insomma e le gradatorie che stanno uscendo che fino diciamo alla fine dell'anno verranno utilizzate essenzialmente l'ufficio scolastico provinciale avrà disposizione di dare supplenze annuali su posto comune posto comune o di sostegno comune o sostegno su cattedre vacanti e disponibili lo deve fare entro il 31-12-2020 e fino alla data del 31 agosto c'è un'altra modalità per cui verranno date supplenze fino o al 30 giugno o al termine degli scrutini su posti vacanti cioè su posti vacanti disponibili posti vacanti disponibili riprendendo le gradatorie di istituto esse riguardano i posti residui da GAE o da gradatori GPS quindi gradatori provinciali che non vengono assegnate quindi finito superata questa data si occuperanno di questi posti ci si occuperà mediante le gradatorie di istituto quindi con la scelta delle 20 scuole quindi GPS verranno da GPS o GAE poi supplenze saranno supplenze potranno attingere dalle gradatorie di istituto per supplenze temporanee quindi malattie del personale e supplenze COVID le supplenze COVID abbiamo detto che verranno date prese in considerazione delle gradatorie di istituto attenzione ai 12 punti perché per chi insegna e intende insomma in questi due anni cercare di fare i 24 punti che sono il massimo 12 punti per ogni anno e ricordo che bisogna fare almeno 180 giorni per avere 12 punti però ricordate questo non lo ricordano tutti esiste anche la legge non so più dove scrivere il decreto ministeriale io ve li do così ve li potete leggere 374 del primo giugno del 2017 la famosa legge del primo febbraio cioè per coloro che prendono servizio entro e non oltre la data del primo febbraio fino alla fine degli scrutini finali comunque si ha diritto ai 12 punti quindi in questo caso anche se si fanno 120 130 140 giorni di scuola si hanno i 12 punti quindi pensate bene a tutte queste informazioni se dovesse arrivarvi tramite email o tramite convocazione sul sito dell'USP una convocazione un saluto da Francesco Samani quindi